segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te con quella che noi abbiamo pensato fosse una buona notizia appena si è entrata e detto beh ma vediamo buco nell'ozono quello che ho capito io è che entro il 2025 com'era alessio si sta richiudendo e quindi tutto l'allarme uno dice beh buono che si stia richiudendo 2040 allora io non so se c'è stato forse frainteso il buco dell'ozono è aumentato abbastanza rapidamente in questi anni diciamo che nasce si scopre intorno agli anni primi anni 80 fine anni 70 ecco qui vedete a sinistra c'è il buco dell'ozono del 2000 ok a destra 2018 sembra leggermente ridotto leggermente ridotto per cui sembrava che ci fosse una fase calante nel 2021 si è tornato al massimo c'è stata la massima estensione del buco dell'ozono e c'è ecco c'è questa questa immagine che vedete vedete ottobre 2021 e questo è il sito della nasa e qui non è che sono chiacchieroni questo è il sito della nasa che dice che ha raggiunto la massima estensione di sempre alla fine del 2021 adesso oggi la nasa dice sostanzialmente questo è il picco quindi possiamo migliorare poi andiamo migliorando speriamo che sia così speriamo che sia così perché finora non è che cioè la notizia non è che si è chiuso e che dovrebbe cominciare a chiudersi dovrebbe iniziare a tornare indietro a tornare indietro e questa è diverso nel senso che speriamo che sia così però non si fa così una cosa buona abbiamo l'unica cosa buona ecco penso come stiamo messi che l'unica cosa buona non è neanche non è vera subito